Davvero a livello di fantascienza, se siete un po' temerari, potreste andare su Kickstarter che ha lanciato qualche settimana fa un nuovo occhiale chiamato Ghost Spacer. Tra i grandi misteri del podista amatore la relazione tra ritmo reale e ritmo del GPS e quella più frustrante. Non vorrei deludervi ma nel settembre 2020 un GPS non potrà mai mostrarvi valori corretti per la misurazione della vostra distanza sul percorso preferito. Non sbaglierà di molto ma è stimato che almeno una variazione tra lo 0,2 o l'1,5 se non addirittura il 3% su una pista di atletica ci possa essere. Qualche anno fa quando era ancora facile misurare e confrontare i dati del GPS via web avevo stimato che chiaramente dipendeva dal GPS utilizzato, dal tipo di gara che si svolgeva e ovviamente dal percorso. E quindi cosa fare? Questo video nasce con l'esigenza di mostrarvi, visto che esistono sicuramente già dei video molto carini su come gestire il ritmo in corsa, come farlo con il GPS. Correre a un determinato ritmo potrebbe essere facile oppure difficile e in effetti dipende molto da come utilizziamo la tecnologia per misurare i nostri dati. Fino a fine agosto 2019, meno di un anno fa, era un vero casino in effetti che utilizzavo una fascia da polso banalissima con i numeri, ho visto dei pacer che se la scrivevano addirittura al polso. Ci sono sicuramente almeno tre situazioni in cui è importante misurare il vostro ritmo di corsa in gara oppure su una pista o infine in salita, situazioni in cui probabilmente non è così facile farlo se non avete a disposizione una tecnologia che vi possa aiutare. Ricordiamo tra l'altro tutti cosa successa a novembre 2019 alla Maratona di Firenze, ma in generale capita che con il passare dei chilometri il cartello viene sempre anticipato dal suono del dispositivo. In pista poi il problema viene esacerbato dal fatto che si corre su un anello e il gps sappiamo benissimo non è ben predisposto per questa tipologia di corsa. In tal caso la misurazione con l'app manuale è proprio quella più appropriata. Infine in salita anche se teoricamente il ritmo diventa più difficile da misurare a meno che di avere a disposizione un misuratore di potenza con il quale in effetti sareste in grado di aggiornare automaticamente il vostro modo di correre in funzione della potenza visualizzata sul dispositivo. L'anno scorso anche se soltanto i technology del canale ne sono a conoscenza Garmin ha introdotto sui nuovi dispositivi Phoenix 6 oppure Garmin 4Runner 945 piuttosto che 245 una funzionalità che si chiama Pacer Pro con la quale è possibile in effetti correre e gestire al meglio il vostro ritmo. Garmin lo ha fatto con l'intento di sostituire i braccialetti che vedete tipicamente alla maratona. Si tenga conto però e questo mi è stato detto che questo non è uno strumento che invece vi consente di stabilire l'equivalenza in piano. Strumento che in effetti esiste che troverete su Strava Premium e di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Ma come funziona esattamente questo strumento? Se avete a disposizione Phoenix 6 Pro lo potete configurare dall'orologio oppure in alternativa a disposizione con Garmin Connect sia dal mobile piuttosto che dal computer sareste comunque in grado di farlo. In sintesi il sistema vi chiederà un percorso o una distanza non vi servirà di fatto caricare un percorso però se non lo fate il sistema perde tra virgolette il contesto e considererà un'uscita su una superficie piana. Ovviamente questa non è una grande idea e di conseguenza l'utilizzo di un percorso già caricato potrebbe consentirvi di correre a una determinata velocità sul percorso stesso. Scelto il percorso e il passo medio avete in effetti a disposizione due particolari scelte. Dovete semplicemente decidere come correre e in questo caso potreste farlo in maniera omogenea o in progressione. Seconda cosa se state affrontando una salita il sistema vi chiederà come vorreste correre la salita. Siccome avete impostato il ritmo medio questo influenzerà la velocità con cui affronterete le salite una volta fatte tutte queste scelte Pacer Pro vi fornirà una volta sincronizzato il dato sull'orologio uno strumento davvero adeguato per consentirvi di capire come correre durante la vostra gara. Il pregio di questa soluzione è che il dispositivo Garmin vi fornerà un confronto chilometrico chilometro per chilometro del passo da tenere e dell'eventuale ritardo d'anticipo rispetto alla vostra prestazione sperata a priori. Questo strumento funziona davvero benissimo perché il sistema ha disposizione non soltanto dove sono posizionati realmente i cartelli ma anche conosce bene l'altimetria e di conseguenza sarà in grado di dirvi il modo migliore di correre durante la gara che state affrontando. In tal caso è importante fornire a Connect una mappa dell'organizzazione e comunque qualcosa di ufficiale e attendibile. Non vi consiglio invece di prendere un GPS della maratona dell'anno precedente anche perché in alcuni casi troverete che questa maratona non sarà lunga a 42 195 metri ma molto di più. Purtroppo Pacer Pro funziona soltanto con Garmin del 2019 e del 2020 se voi invece non avete a disposizione questi strumenti che cosa fare? La prima opzione tecnologica è quella di utilizzare Stride collegato a qualsiasi dispositivo GPS e stabilire quale sia la vostra soglia di potenza e utilizzarla durante tutta la gara. Il dispositivo secondo i fondatori di Stride se utilizzerete e correrete alla soglia di potenza indicata vi permetterà di correre tutta la gara e arrivare al traguardo con uno sforzo assolutamente adeguato senza avere problemi fisici. Questa è chiaramente la value proposition di Stride il vero problema però è trovare tra virgolette la potenza giusta e in questo caso credo che ci voglia davvero una conoscenza algoritmica e ingegneristica abbastanza approfondita. Ad ogni modo vi lascio il mio articolo di The Running Pit in cui racconto i benefici di Stride magari nel futuro ne parleremo anche qui sul canale. Non so però a quanti podisti la cosa possa interessare anche perché ovviamente fondamentalmente noi parliamo di scarpe. Per chi non avesse Stride oppure nemmeno un Garmin di nuova generazione l'alternativa potrebbe essere quella di utilizzare Garmin Connect IQ che è disponibile già a partire del 2015 su tutti i dispositivi che sono stati introdotti dopo quell'anno. Si potrebbe in particolar modo utilizzare un campo Connect IQ che si chiama Race Screen in cui a parte vedere diverse informazioni sulla vostra gara si può aggiornare il passo medio in funzione del passaggio del cartello chilometrico. Anche qui tutto spiegato su un altro articolo di The Running Pit in cui si raccontano pregi e difetti di questa soluzione. Chiaramente il beneficio di questa soluzione è quella di avere sempre a disposizione qual è la vostra tra virgolette media vera rispetto a quella valutata al passaggio del cartello chilometrico. E voi mi direte per chi non avesse a disposizione queste tecnologie come fare? Beh in tal caso il mio consiglio è semplicemente quello di disattivare l'app automatico e premere il vostro dispositivo ad ogni cartello chilometrico. In tal caso sarete sempre in grado di capire qual è la vostra media chilometrica. Ovviamente sarà un po' più difficile fare il calcolo sulla media totale ma in questo caso purtroppo non credo che ci siano grosse soluzioni. Resta poi l'opzione di farvi aiutare da qualche amico oppure seguire i pacer ufficiali che però sono solamente presenti nelle gare più importanti. Infine ma qua siamo davvero a livello di fantascienza se siete un po' temerari e se non avete paura di affrontare il futuro potreste andare su kickstarter che ha lanciato qualche settimana fa un nuovo occhiale chiamato Ghost Spacer con il quale sarete in grado di avere una valutazione della vostra media chilometrica in maniera tra virgolette molto innovativa. Ghost Spacer è un'azienda di Seattle che definisce il futuro del running attraverso questi occhiali che tra l'altro costano circa 200 euro. L'occhiale in effetti vi mostrerà un ologramma davanti a voi per consentirvi di correre a una determinata velocità e ritmo. L'azienda tra l'altro ci dice ma queste ovviamente sono secondo me per ora solo speculazioni che ha un errore di misurazione di due secondi ogni due miglia e di conseguenza se fosse vero la cosa potrebbe consentire davvero al podista amatore di avere una valutazione ben precisa di come correre. Tra l'altro questo nuovo occhiale consente di fare la stessa cosa di Garmin ossia di correre a ritmo variabile in funzione della pendenza della strada. Infine nel caso andasse più velocemente dell'avatar sappiate comunque che il sistema vi fornirà ulteriori informazioni numeriche con le quali sarete in grado di capire qual è il vostro vantaggio rispetto al ritmo che in teoria dovevate tenere all'inizio della corsa. Val la pena comprarlo lascio il link qua sotto nel caso in cui foste interessati sappiate che comunque Kickstarter richiede un po' di tempo prima che il prodotto venga consegnato. Detto ciò ci sono sicuramente altre mille opzioni nel passato alcune sono state abbandonate perché forse non utilizzate dai principali podisti amatori mi chiedo sicuramente cosa fate voi fatemelo sapere qua sotto. Ad ogni modo dimenticavo di dirvi che io sono Massi se vi è piaciuta la recensione gradirei l'iscrizione al canale per non perdervi nuove recensioni e con questo vi saluto ciao alla prossima e nel frattempo stay strong! Ciao! 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 Ciao!